Musica Anche quest'anno parleremo di strategie di difesa contro i lepidotteri della vite, parleremo in primis di l'obesia botrana ma anche di un nuovo insetto, un insetto non nuovo ma che ha cambiato comportamento, mi riferisco alla Crypto Lab Snidiella, lo faremo grazie all'apporto e al supporto del collega Paolo Dottorini che ha lavorato per ben due anni per investigare le abitudini, la biologia di questo insetto. Parleremo, metteremo di fatto l'accento su due aspetti imprescindibili per DuPont che sono quello del monitoraggio, quindi la necessità di monitorare un pest, quindi un patogeno, per poter identificare l'esatto timing applicativo e parleremo anche di prodotti a basso impatto ambientale quali il Coragen e lo Steward. In buona analisi parleremo di difesa sostenibile. Questa sera siamo qui a Cellino San Marco, alla Cantina Due Panne, per presentare la nostra linea di difesa per i lepidotteri della vite e in modo particolare affronteremo una problematica nuova per quanto riguarda le zone viticole del centro-sud che è la Cryptoblabes. Cryptoblabes è un lepidottero nuovo che è comparso recentemente e noi stasera presenteremo un po' quelli che sono gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la biologia e le modalità di difesa che possono essere impostate in azienda per poter contrastare questo pericolosissimo lepidottero. Ecco, svilupperemo in modo particolare, parleremo per quanto riguarda in modo particolare il monitoraggio per poter verificare la diffusione di questo nuovo insetto, come è successo riportando un po' quello che è stata la nostra esperienza in centro Italia, in Toscana in modo particolare in Abruzzo, dove abbiamo visto che in questi ultimi anni la diffusione dalle zone litoranee e costiere dell'Adriatico e del Tireno si sta spostando verso l'interno e quindi vorremmo verificare anche in queste zone la diffusione e la presenza di questo lepidottero portando appunto delle informazioni molto importanti per quanto riguarda la biologia come dicevo prima e riconoscimento dei certi stadi vitali dell'insetto, quindi riconoscimento delle uova, delle larve, degli adulti e quindi facilitare l'individuazione di questo nuovo insetto da parte dei tecnici e degli agricoltori. Se offriamo queste cose ai soci è perché siccome gli altri dicono che siamo l'eccellenza del territorio del Salento allora eccellenza bisogna essere a 360 gradi, eccellenza non è soltanto il vino, la bottiglia è eccellente ma io dico ai miei collaboratori che bisogna essere a 360 gradi, quindi a partire dalla campagna, dall'allevamento alla difesa integrata, sino ad arrivare alla bottiglia dobbiamo essere tutti quanti competenti a 360 gradi e dimostrare sempre in qualunque momento di essere eccellente. Forniamo ai soci questo servizio di assistenza tecnica per portare al meglio l'uva in fase di vendemmia quindi iniziamo queste riunioni a partire dalla fine di marzo già e incontriamo tutti quanti sia nella cantina nella sede qui di Cellino che nella sede di Lizzano, questi incontri sono settimanali cioè non c'è più la vecchia assistenza tecnica ad andare in campagna, la socio a socio adesso i soci vengono qui, c'è una sorta di gestione condivisa della cantina di tutto quello che è affaccato in cantina o nello specifico in questa parte della stagione parliamo di vigna ma in altri periodi dell'anni parliamo anche di imbottigliamenti, parliamo di ciò che succede nella cantina di vendita di vino e quant'altro.